Buona domenica e bentornati a questo appuntamento con le novità fumetti della settimana. Ebbene sì, anche alla vigilia sono qui con il solito video acquisti. E a dire di questa settimana, non una settimana ricchissima di uscite, in realtà un po' di cosine interessanti c'erano, qualche cosine me la sono anche perse in realtà, ma l'ho recuperata, ma vabbè, arriverà. Ma ovviamente, prima di vedere i fumetti, vi ricordo rapidamente i miei social. Mi trovate tutti i giorni in live, da lunedì al venerdì alle 18 e la domenica alle 21 su Twitch e non credo di fare particolari pause nemmeno per il Natale. Addirittura sarà probabilmente il live il 25 mattina con la consueta Irl Natalizia, che è un po' un appuntamento fisso quando a Natale non piove. Poi, se non volete perdervi le live ma non avete tempo di esserci, le ricarico sul secondo canale YouTube, Cantina Pelata, link in descrizione. E in descrizione trovate anche tutti i link agli altri social, Instagram, Facebook, TikTok credo non ci sia, ma è sempre Pelati e Fumetti. Poi, sempre in descrizione trovate i link ai fumetti di cui vi parlo, acquistando da quei link mi date una grossa mano a mandare avanti il canale e volendo c'è anche Pampling, dove comprare un sacco di magliette nerd usando il codice Pelati e Fumetti. Tutto attaccato, vi danno il regalo dei calzini bellissimi e quindi non ne usiamo oltre e andiamo a vedere cosa ho comprato di DC Comics, come sempre. Rispetto agli ultimi tempi in cui DC compra veramente pochino, questa settimana c'è qualche cosettina in più, niente di enorme, ovviamente. Ma iniziamo con un esordio, perché infatti è arrivato il primo numero di Night Terrors, che si scrive Night con la K come cavaliere, però c'è l'assonanza con Night, quindi terrori notturni. Un fumetto sugli incubi in cui tutti i supereroi DC verranno appunto visitati dalle loro più terrificanti paure. Non ho ancora letto tutto il numero, in realtà l'ho iniziato ieri sera, ma poi avevo sonno e quindi l'ho lasciato perdere. Ho letto proprio l'incipit, sembra interessante i bellini disegni di Howard Porter, anche se in realtà disegna solo questo primo numero, che è lo specialino Night Terrors First Blood. Seguirà nei prossimi mesi l'intera miniserie, in tutto saranno quattro numeri, incluso questo. Ma la storia non si limita a questa miniserie. Ci saranno infatti almeno un paio di speciali, forse anche tre, non mi ricordo, dove incontreremo tutti i personaggi che in Italia, bene o male, non hanno una serie regolare, quindi quasi tutti. E in più, sulle serie spillate normali, tipo Batman, Superman, Wonder Woman, eccetera, credo anche Flash, leggeremo gli episodi collegati. Quindi un eventone DC, forse non così importante, però potenzialmente interessante. Bisogna vedere un po' cosa ne faranno gli autori di questa idea. Vediamo, ne riparliamo sicuramente. Tra l'altro un piccolo esordio c'era già stato sullo speciale Free Comic Book Day DC, pubblicato da Palini a inizio mese. Comunque, interessante, devo dire, nel limite dell'ennesimo evento DC, che forse ne fanno un po' troppi, ma ribadisco, ne riparliamo. Poi, secondo numero per Superman. E qui ho qualcosina da dire, perché la cosa che mi ha stupito abbastanza è il fatto che effettivamente sembrano aver totalmente lasciato perdere la numerazione Legacy di Superman. Nel senso che questo dovrebbe essere tipo il 50 qualcosa di Superman, ma non sta scritto da nessuna parte. Se normalmente, quando resettano la numerazione, rimane comunque il numero originale, almeno in Marvel, fanno così, qui non ce n'è proprio traccia. Se guardate anche all'interno, c'è scritto soltanto Superman 2. Cosa che, tra l'altro, se non mi ricordo male, sulla variant invece era specificato che era tipo il numero 50 qualcosa. Ma non ce l'ho sotto mano e dovrei controllare. Non che sia una cosa così importante, però. In ogni caso, devo dire che questo numero non mi è dispiaciuto affatto, visivamente è molto molto bellino. La cosa che mi fa sempre strana è il modo in cui viene disegnato Superman, soprattutto nelle riprese frontali. Nelle altre, devo dire che mi piace molto di più, ma vabbè, per il resto la storia, devo dire, che acchiappa abbastanza. C'è questo Lex che sembra voler collaborare con Superman, ma sicuramente ha i suoi motivi sotto sotto. E dei motivi già si vedono, perché c'è una coppia di nemici di Lex Luthor che attaccano Metropolis e che vogliono evidentemente vendicarsi di lui, ma chiaramente le cose Lex non le sta raccontando per come stanno veramente, ma immagino scopriremo tutto con l'avanzare dei numeri. Rimane la grande domanda, che fine ha fatto Action Comics? La rivedremo prima o poi, Panini? Farci sapere qualcosa così come idea non sarebbe male, forse? Oh, comunque, testi di Joshua Williamson e disegni di Jamal Campbell e Nick Dragotta. La cosa che mi fa ancora più strano, in realtà, è che c'è una singola pagina degli autori, hanno riunito le due e in mezzo all'albo è... Oh, strano. Anche perché pagina con gli autori, ultima pagina del capitolo 3, capitolo 4. È molto strano. Vabbè. Concludiamo con DC con un albo invece che ho recuperato perché settimana scorsa me l'ero scordato, non l'avevo visto. Boh. Ed è l'ultimo numero di Batman vs Robin, Lazarus Planet, ovvero il 7, in questa variant metallizzata, con in copertina Clarion, che a molti probabilmente non piace, ma a me sì perché Clarion è un personaggio che mi ha sempre ispirato dai tempi della miniserie di Grant Morrison sui 7 soldati della vittoria e quindi l'ho comprata. E intanto le ho comprate tutte queste variant, quindi ce le ho tutte così. Olè. Non l'ho ancora letto, devo in realtà ancora leggere proprio l'evento, Lazarus Planet lo farò quanto prima. Qui si chiude finalmente questa lunga lunga miniseriona. Troviamo Mark Waid ai testi e Mahunda Sarar ai disegni. Non ho niente di particolare in più da segnalare, appunto, perché ancora non l'ho letta. Non è che mi sia dispiaciuta, eh, fino a dove appunto sono arrivato, ovvero al quarto numero della mini, ma ho ancora da capire come si collega l'evento e poi questo quinto numero che è pubblicato sul settimo italiano. Un casino? Sì, è così. A questo punto passiamo a Marvel. Ecco, dopo settimane di grosse uscite Marvel, questa settimana pochine, però due cose a cui tenevo. La prima è di nuovo una variant, in realtà perché è arrivato finalmente Amazing Spider-Man 33-833 con la variant dedicata agli X-Men. disegnata da Vitale Mangiatordi. Ora, sono le variant Disney, non sono un super fan, questa però mi è sempre piaciuta. Perché? Perché sono un super fan degli X-Men, questa è la famosa copertina di X-Men 1 di Jim Lee. Sarebbe stato divertente vedere anche gli altri pezzi. Qui ci dovrebbe essere Magneto, tipo, e poi le altre due, perché era quella famosa copertina multipla. Tra l'altro vi ho fatto vedere un paio di settimane fa, credo, la versione di Alex Ross, di quella copertina. Olè. Comunque ci tenevo, questa va sul muro, ovviamente, perché sì. Tra l'altro mi sta anche molto venendo voglia di recuperare quella con Pippo Hulk, perché quella, tra tutte le altre, è quella che mi piaceva di più. Ci penso, magari faccio questo acquistino durante le vacanze. Comunque, parlando del fumetto all'interno, torna il Doctor Octopus, voi non lo vedete, ma sulla cover regolare c'è. Nuova saga intitolata Tentacolare, nonostante in America non avessero titolo gli episodi, però, ci fa notare Briegel, che era Harmored and Dangerous, il titolo del TP, e quindi, vabbè, potevano fare armato e pericoloso, ma no? Disegni piacevoli, rimette in scena la rivalità fra Osborn e il Doctor Octopus. Una nuova versione di Octopus un po' strana, devo essere sincero, però nel complesso è un numero che ho trovato divertente da leggere. I testi sono ancora di Zeb Wells, i disegni di un ottimo Ed McGuinness, davvero, davvero in forma e davvero, davvero a suo agio con il personaggio di Spider-Man, devo dire. Un McGuinness molto diverso da quello che ricordavo, ad esempio, ai tempi di Superman, o anche banalmente di Deadpool, ma vi parlo di, boh, vent'anni fa, forse di più? Non male, comunque davvero, davvero piacevole. Per il resto, boh, vediamo come finisce la saga, ne riparliamo sicuramente. E poi, l'altro acquisto Marvel che ho fatto è un recupero di settimana scorsa dove non avevo visto questo volume, forse era sfuggito a me, o forse non era ancora arrivato, ma ho comprato il Marvel Collection dedicato ai Guardiani della Galassia, qui inizia la nuova serie. Se volete saltare a bordo dei Guardiani, questa può essere la vostra occasione, il team che trovate è più o meno quello del film, che in realtà è molto vicino anche al team originale dei Guardiani moderni. Diciamo che l'unica vera differenza è l'inserimento di Nebula, che, mh, bomba, Nebula nell'universo Marvel è sempre stata una cattiva anche un po' di seconda classe, ma ovviamente l'influsso del film si fa sentire e olè. Ora, devo essere sincero, non mi ricordo le precedenti apparizioni di Nebula, potrebbero essere nelle precedenti storie dei Guardiani, non lo so perché non le ho lette, magari indago prima di leggermi questo volume, comunque, testi di Colin Kelly e Jackson Lasing, ha i disegni uno spettacolare, secondo me, Kev Walker, che devo dire, mi piace tanto, tanto, tanto. Il setup è un po' uno space western, non l'ho ancora letto, però così, visivamente, sfogliandolo, secondo me, è decisamente da provare, quindi dategli una possibilità, se volete provare i Guardiali nuovi, in spillato, non arriveranno, vanno direttamente in cartonato, non apprezzo tantissimo la scelta, sapete che sono molto probrossurati, soprattutto per le serie regolari, però, vabbè, che ci possiamo fare, purtroppo il sentore popolare pare andare da un'altra parte e preferisce spendere 18 euro invece di 14, io continuo a pensare, viva le versioni deluxe, abbasso i cartonatini, ma ok, in ogni caso, consigliatissimo. A questo punto, abbandoniamo Marvel, passiamo agli altri fumetti, una sola uscita, in realtà, avrebbero potuto essere due, ma no, in ogni caso, è arrivato il secondo numero di terre di Ogon, fumetto francese, che fa parte, ancora una volta, delle terre di Arran, anche se al momento non si chiamano più terre di Arran, tipo, bensì, è il mondo di Aquilon, perché? Perché si sono inventati un nuovo continente, o forse due, perché in realtà dovrebbe essercene anche uno in stile nipponico, che però non si è ancora visto, terre di Ogon è il continente vicino alle terre di Arran, che è di ispirazione africana, quindi popolazioni di colore, scenari un po' più giungleschi, diciamo come impostazione, stile un po' diverso, fauna decisamente diversa, ma ovviamente lo stesso stile fantasy e gli stessi fantastici disegni alla francese. E primo volume, quando è uscito, me lo sono letto con piacere, mi ha divertito un sacco, ho immediatamente comprato anche questo, e vi dicevo, potevano essere due, perché in teoria è uscito anche il nuovo numero di maghi, però il fumettere era già esaurito e quindi me lo sono ordinato su Amazon, arriverà a inizio settimana prossima. Comunque, qui all'interno conosceremo Ma Kauru e Mystic. Sono super curioso di leggermi queste storie, lo farò quanto prima. E a questo punto, ovviamente, abbiamo i nostri manga, anche a livello manga, e devo dire che sono andato molto mainstream questa settimana, non abbiamo nessuna piccola casa elettrice, solo le tre big. Iniziamo con Star Comics e torna solo leveling con il numero 15, il che vuol dire che a breve uscirà anche il 16, perché sapete che sono divisi a metà rispetto ai volumi coreani. Le sottilette, fondamentalmente, anche se non sono così sottili. Vabbè, non so il motivo per cui solo per solo leveling hanno scelto questa soluzione quando per tutte le altre serie webtoon fanno i volumi rossi. Volevano guadagnarci di più perché questi non li avrebbero fatti pagare 19,80 forse, non lo so, però vabbè, ce l'adattiamo. Mi piace sempre un sacco solo leveling, gran bei disegni, la trama è interessante, è un po' misteriosa in questo volume, devo dire. È proprio quel tipo di fumetto che diverte a me, una di quelle cose che leggo appena compro perché è il mio guilty pleasure leggere questo tipo di cose. Alla fine, se vi piace il fantasy e le cose in stile videogame, consigliatissimo, fra tutte le scelte webtoon che si possono fare di quelle pubblicate in Italia, uno assolutamente dei migliori, quindi compratelo. poi abbiamo il quattordicesimo numero di Marshall che in tutto dovrebbe essere il 18, ormai non c'è più così tanto da dire su Marshall perché l'abbiamo capito, si è trasformato in un battle pure semplice, c'è questa saga finale con i super scontri, devo dire che anche guardandolo visivamente è anche migliorato, nel senso che rispetto ai primissimi numeri la crescita c'è, peccato per questo twist a livello di tematiche che l'hanno reso terribilmente la solita roba, preferivo prima, era molto più carino, però vabbè, che ci possiamo fare, manca 4 numeri, li leggiamo tutti e via. E per un manga che sta per concludersi ne abbiamo uno invece che si conclude, credo, ovvero Mobile Shoot Gundam 0083 Rebellion con il numero 18, perché vi dico forse, allora, effettivamente qui all'interno del volume c'è la post fazione proprio, c'è scritto fine nell'ultima tavola e quindi non mi farai particolari problemi sul fatto che sia concluso qua. L'unica roba strana è che su Anime Click ancora c'è scritto in corso, non lo so, magari è un errore, oppure hanno fatto qualcosa di extra, non ne ho idea. Comunque, la storia principale si conclude su questo volumetto, penso che me li leggerò perché ne ho parecchi indietro di questi, l'avevo messa un po' in pausa e adesso che ce l'ho tutta magari me li metto lì sul comodino e me li leggo tutti così ce lo leviamo dalle balle. Disegni molto molto bellini, una trama interessante ispirata ovviamente alla versione animata di Gundam 0083 Stardust Memory mi pare, però ne vale la pena. Di fumetti di Gundam in Italia ne arrivano veramente pochi e questo è uno di quelli interessanti anche semplicemente dal punto di vista grafico è molto 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 azzeccato, molto piacevole. Alla fine è una bella serietta, se riuscite a recuperarvela dategli una possibilità perché è simpatica, non è all'altezza di certe altre opere secondo me preferisco Thunderbolts ho preferito tantissimo Origin però carino. Quindi, passiamo a questo punto a J-pop. Per J-pop non ci sono particolari novità questa settimana, abbiamo il nono volume di Under Ninja, un manga in cui si capisce veramente poco ma è Kengo Anazawa ed è un po' il suo stile narrativo. È interessante, anche qua che dovrebbe avere qualche numero indietro però sarebbe il caso di rimettersi in pari. Ninja che agiscono nel mondo moderno il problema è che non si capisce bene dove si vuole andare a parare o anche cosa succede esattamente. Però, escludendo questo, ci sta, strano. Poi, quinto numero per Tsugumi Project un manga di Patu inizialmente pubblicato in Francia poi si è realizzato anche in Giappone e mi piace ho anche il sesto in giapponese in realtà quindi quando esce il prossimo segno tutti e due in tutto sono sette se non ricordo male mi piaceva molto all'inizio sto trovando che da quando leggiamo la versione pubblicata prima in Giappone ci sia stato un po' anche qua uno switch di tematiche e secondo me non ha guadagnato da questo punto di vista poi per carità anche il numero scorso non mi è dispiaciuto visivamente è sempre tanto particolare e molto bellino sono curiosissimo di leggermi anche questo numero però sembrava un'altra cosa devo dire nei primi tre volumetti carino ma non lo so con riserve comunque mi leggo anche questo poi magari quando finisce se ne riparla poi decimo numero per Game of Famiglia e devo dire che qui invece sono proprio un po' non particolarmente preso non usciva da un po' probabilmente siamo più o meno in contemporanea con il Giappone e forse i primi numeri erano un filo più interessantini qua è un po' il solito problema degli isekai cioè poi per carità visivamente è interessante la trama funziona non è nemmeno particolarmente ingessato semplicemente non mi ispira così tanto forse nella narrazione però non è male se la storia vi ha preso e continua a prendervi ci sta vediamo un po' dove andrà a parare quando continuerà comunque è un volume che si fa leggere carino ma e poi abbiamo il decimo numero della divisa scolastica di Akebi anche questo non usciva da un po' in realtà anche se il nove non è uscito tantissimo tempo fa da quello che ricordo è un manga strano lo sapete è una sorta di slice of life sulla vita di una ragazzina che va a scuola ragazze carine che fanno cose carine quella roba là immagino vi ricordiate non ci sono tantissimi testi in generale sembra un po' un ibrido fra un artbook e un manga però l'autore disegna veramente bene un po' strano ma piacevole quindi alla fine se vi piace il genere consigliato altrimenti no e a questo punto planet manga per planet abbiamo un po' di sprofondamento nella depressione con il solito boys abyss di rio minenami manga un po' troppo nel senso che abbiamo già parlato più e più volte non è possibile che in questo villaggio siano tutti così messi male ma qua in questo numero abbiamo un bel flash beccone quindi scopriremo che le cose andavano male anche prima e ci volete fare è così generazioni di sfighe che ricoprono nuove generazioni di nuove sfighe vabbè è un po' così alla fine si fa leggere devo dire cioè la lettura funziona perché la scrittura non è male è solo un po' troppo sempre sempre un po' troppo poi dodicesimo numero per Tenken reincarnato in una spada che ha il solito problema di tutti gli isekai ovvero inizia bene perché c'è la crescita dei personaggi eccetera e poi ci si incarta entrame che non sono poi così interessanti in questo numero abbiamo un po' la fine della saga attualmente in corso con un regno dove un fratello aveva usurpato il trono agli altri una roba del genere che qui trova la sua conclusione però insomma non è proprio proprio il manga fatto meglio più divertente di tutti a livello di sconzi non è particolarmente eccitante a livello di trama nemmeno preferivo prima ora in Giappone sono arrivati mi pare al 14 quindi bene o male siamo quasi in pari dopodiché ne uscirà un numero ogni 6 mesi se va bene olè vabbè continuiamo a prenderlo per così tanto per non bloccare una serie al 12 però diciamo che non sono proprio super super estasiato eh poi numero 13 per My Home Hero questo è un po' il mio al momento grosso problema cioè lo compro e non lo leggo lo sapete sono mesi che ve lo dico devo decidermi perché sennò lo droppo al 13 non me ne frega niente perché basta però è carino alla fine i primi tre numeri mi erano piaciuti non so dove è andata poi la trama sviluppandosi sfogliandolo vedo ancora tanta malavita vediamo se riesco ad approfittare delle vacanze che non so che vacanze siano per leggerlo magari riesco vediamo poi diciannovesimo numero per Wusoku Tensei Jobless Reincarnation che nonostante sia un isekai in realtà secondo me continua a funzionare abbastanza l'unico vero problema a livello di trama è che forse è un po' lentino ultimamente cioè all'inizio era molto più rapida l'evoluzione delle cose ora sono credo non lo so 6, 7, 8 numeri che siamo fermi nella scuola di magia e le cose effettivamente si muovono un po' troppo lente forse è un po' più rapido non mi dispiacerebbe però ammetto che la lettura è comunque piacevole è molto molto orientato alla visione della crescita dei personaggi in realtà sebbene non in senso isekai quindi dei loro poteri ma quanto sulle loro relazioni in questo momento mi piace devo dire non è una bocciatura però anche qua preferivo l'inizio sinceramente però si legge e per concludere una conclusione perché si abbiamo il quattordicesimo e ultimo numero di Gleipnir l'ho letto una trama un po' incasinata nell'ultimo volumetto tra l'altro devo dire che non mi ricordo esattamente come siamo arrivati al punto in cui siamo avrei dovuto rileggermi rapidamente il 13 che non so quando è uscito e non so dove ho messo e forse mi sarebbe stato più chiaro magari gli ridò un'occhiata prima di fare un mio pensiero finale sulla serie però gradevole nel complesso visivamente molto molto bellina un finale più positivo di quello che avrei pensato devo essere sincero rispetto a come è andata tutta la serie però nel complesso è una lettura comunque gradevole ma devo anche dire che non è che mi mancherà così tanto l'uscita di Gleipnir va benissimo che sia durato 14 volumi e non di più un numero congruo anche se devo dire che ci ha impiegato un bel po' ad arrivarci non so quando è iniziata la pubblicazione dovrei riguardarmelo però alla fine è un manga interessante magari se ne riparla prima o poi in qualche modo magari all'interno di un video letture vediamo e nulla con questo abbiamo concluso io come sempre vi ringrazio di aver seguito il video se è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale fatemi sapere nei commenti ovviamente voi cosa avete comprato questa settimana cosa avete letto se siete pronti per le vacanze se vi siete comprati un sacco di roba da leggere durante le vacanze in ogni caso ci rivedremo con il prossimo video acquisti che immagino sarà quello dei regali di Natale forse vediamo in ogni caso speriamo in un 2024 con ancora più video che quest'anno è stato un po' eh comunque tranquilli perché da qui alla fine dell'anno di video ne usciranno ancora noi come sempre ci vediamo al prossimo video e per ora potere pelato ciao 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 ciao